ciao ragazzi bentornati benvenuti sui giorni di dash up zero io l'ho già iniziato per vedere come era fatto ed è abbastanza complicato particolarmente l'ultimo però vi dico che questo qui è molto bello come i geometri dash e è abbastanza difficile ma mi sono allenato per farlo perché perché non è super facile qui è facilino fino fino a un certo punto è facile ecco qui è un pochino difficile perché i ritmi sono un po rallentati qui è un pochino difficile c'è un pochino vai minigame no si frega da solo ok allora vi ho fatto vedere sul primo avete visto bene quanto è lungo no avete visto quanto è una kim facciamo una kim io giuro che ci sono già delle monete segrete allora questo è un'immagine difficilissima io non riesco cioè avete già capito poi c'è power trip che questo qui ci fa effettivamente sclerare non riesco a questo è un'immagine di probabilità di vincere perché altre cose poca probabilità voglio provarli non riesco è difficile non c'è bene un 86% era arrivato questo qui è il giunto adesso si vuol dire il più complicato no non è vero il più complicato è quello più complicato che ci metterò tra i like perché ha tantissimi livelli complicati e nel prossimo episodio quando ci vediamo in giro non giochiamo online ma giochiamo quello 2-2 che lo paga molto che bello e ho inventato dei livelli che ho fatto vedere scelere ok a me mi piace giocare giochi difficili non i fastidi i fatti sono bruci la strunava non mi piace tanto anche se lo strunava magari non mi piace tanto non mi piace tanto Questa è la parte che prima ce l'avevamo fregata Non sono no No Mi sono fregato da solo Mi serve concentrazione però per farlo questo qui Scusate che non parlo Perché se non parlo ho concentrazione Mi sono salvato la vita No mi pensa Scusate che non parlo ho fatto Oh ho completato questo Questa è Ma posso dire una cosa complicata Molto Allora per completarlo ho avuto solo fortuna Perché è una notte All'inizio che mi fa i raggi laser Ma Kim Forse completiamo anche questo Segreto Ecco l'avete visto Ecco vi faccio vedere un segreto Che avete visto due secondi fa Che come vedete lì c'è una lucina rossa Ecco È una manetta segreta molto nascosta E nessuno dovrebbe uscire il motore Questa è una parte brutta Molto Mi piacciono anche per i mini game Così Ecco quello lì che si abbassa è infame Non ci metto tanto Ma Non ci trovo ci deve essere Mettere a fare quelle cose Non ci metto No Allora faccio una cosa Abbiamo già capito che no Mettere a fare quelle cose Power trip mi serve a capire più facile E non solo con certo E non solo con certo A me mi sembra anche più lento Adesso giro a vedere Non me lo fa il salto Cioè È piccolo Non c'è per cento provolo Allora Molto difficile Questo non riesco È troppo difficile Ah intanto di questo Vi dico che un giorno Doviamo anche Faremo anche Un video su minecraft No Dei video Un video Si può aiutare qualcosa Se si può aiutare qualcosa Se si può aiutare il feriello Forse si Un video Forse se si può aiutare la cosa But Non vi capisco Non vi capisco Uggh Dei video Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I ricordi. No, non ce la faccio ragazzi. Oh, sto qui non... Secondo ci manca solo che ce la faccio un po' difficile. C'è non un po' difficile, è troppo difficile. Vai, vai... Sì, cos'è sta cosa? No, ho capito il trucco, è andare in alto, è andare in alto. Che noto è possibile. No, cambia. Sì, ciao, cos'è sta cosa? Vai, c'è ancora? Po' sta cosa non finirà mai. No, stiamo scherzando. Un ritorno, mamma. Oh. Sì. 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 Non mi arrivo qui. Non mi arrivo qui. Ancora... Ragazzi... Che cazzo è successo? Ma che cosa è successo? Scusa, ero... Ero costruendo di farà la fine del livello. Allora Vabbè non ci vediamo nel prossimo episodio Perché sto coso mi fa sclerare